Esordio con un ospite di calibro, il critico d'arte Filippo D'Averio, quello dell'Associazione Amici della Biblioteca Capitolare di Verona, a sottolineare ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, il prestigio ed il peso culturale e storico che ha la Biblioteca Scaligera, che custodisce testi e manoscritti di inestimabile valore. Mai però come in un tempo come questo, istituzioni del genere hanno bisogno di un supporto sempre più largo e convinto. Ha due scopi in realtà. Uno che fa sempre bene è di dare un contributo per raccogliere i fondi in un paese nel quale il denaro si destina con maggior favore ad altre cose piuttosto che alla cultura. Ma l'altra è ancora una missione più importante ed è quella di generare dei momenti di calore partecipativo che sono momenti necessari per mantenere i beni culturali storici. E' solo chi sta al gioco, chi ne percepisce la complessità, chi ne assume il messaggio e ha voglia di fare l'Evangelos, cioè di andare a raccontarla altrove, è solo quello che poi diventa un pezzo attivo di una comunità culturale. E siccome l'Italia si è un po' rotta recentemente, forse sarà ricostruita in parte anche grazie alle associazioni di cultura che fanno vivere la comunità e fanno vivere la testa. La gente probabilmente ha bisogno di bello, ha bisogno di bellezza e quando gli si dà l'occasione questa viene colta. Dicevo prima, parlavo di Stendhal che diceva che la bellezza è una promessa di felicità e forse è questa promessa che fa sì che la gente possa aderire così numerosa a questo tipo di iniziative. Che mi auguro che possano essere molteplici non soltanto per i libri ma per i dipinti, per l'architettura, per tante cose che noi abbiamo in questo meraviglioso paese. Promotore da sempre di un'azione che cercasse di coinvolgere in maniera sostanziale il territorio e le realtà vicine al mondo della cultura, Monsignor Bruno Fasani, prefetto della Biblioteca Capitolare, che ha accolto con molto favore la nascita dell'associazione. Ideale mentore della neonata associazione appunto, Filippo D'Averio, che parafrasando un celebre proverbio latino ha trattato il tema in libro veritas, sottolineando l'importanza, nell'attuale era digitale, del libro cartaceo come espressione della storia e della cultura di un popolo. Un tesoro straordinario per la città di Verona, anche se non sempre queste città di provincia sembrano all'altezza nel divulgare questi grandi patrimoni. In questa fase della storia le città cosiddette di provincia, poi cosa voglio dire, se di provincia non lo sappiamo mica bene ancora, cioè le città che hanno una loro destinazione un po' separata rispetto alla politica centrale, sono città che devono definirsi un'identità. Verona ha un'identità formidabile, ma questa identità formidabile la conoscono poco i veronesi e la raccontano poco agli altri. Certo va bene c'è l'arena, tutti sappiamo che c'è l'arena e c'è anche quella roba falsa di Giulietta e Romeo che è il museo più visitato d'Italia in assoluto, ma l'idea di essere contenitore del museo più visitato essendo falso forse dovrebbe far grattare la crappa e dire vediamo di far funzionare anche ciò che è vero.